Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. È incredibile come ci sia da parte della maggioranza, e lo dico per chi segue distrattamente dopo una giornata di lavoro il dibattito da casa, la soddisfazione perché il Presidente del Consiglio ha fatto il suo lavoro. È venuto per una volta tanto a parlare in Parlamento prima di andare in diretta su Facebook e al Tg1. I padri costituenti esultano per questa prova di educazione, come se uno parcheggiasse sempre in divieto di sosta e dopo 20 volte parcheggia regolarmente e uno gli batte le mani e diceva che bravo che sei, che dopo 20 volte hai capito che non si parcheggia in divieto di sosta. Quindi se prendessi l'abitudine di dire in Parlamento, prima di andare altrove gliene saremmo grati. Però qual è la situazione vera alle ore 21 del 2 novembre? Ho chiamato alcuni governatori di regione adesso per non essere smentito. Collaborazione, ascolto, condivisione. I governatori e i sindaci sulle cui spalle dovrebbero ricadere le misure da lei prese che noi leggiamo di straforo sui siti internet, come i cittadini che si stanno chiedendo il lunedì sera. Ma domani lavoro o non lavoro? Prendo l'autobus e io se devo andare per lavoro da Milano a Potenza? Vado? Ma non è che mercoledì mi vengono a Potenza perché non posso tornare a Milano? Uno dice che sarà tutto pianificato alle ore 21 del lunedì sera, poche ore prima dell'eventuale chiusura di scuole, negozi, fabbriche, città o regioni. Nessuno sa niente perché lei non si è degnato di dire niente a nessuno. Mi spieghi se questo è un modo... Ma lo chiedo anche agli amici della maggioranza. Ma voi avete un'impresa? Ma voi potreste pianificare le attività della vostra impresa non sapendo il lunedì sera che cosa succede il mercoledì mattina? Signor Presidente del Consiglio, questa non è condivisione. Questo è l'errore che le ha commesso otto mesi fa. Ma otto mesi fa quale poteva essere concesso? Torniamo ai primi di marzo. Dopo otto mesi no. Errare è umano e tutti sbagliano e chiedono scusa. Perseverare sulla pelle degli italiani sarebbe diabolico. Cosa avete fatto per sei mesi per evitare questo scempio? Cosa avete fatto quest'estate? Domani c'è una di queste risposte perché domani migliaia di italiani sapete con quale idea e priorità si alzeranno domani mattina? Domani è il famoso click day per avere il contributo per i monopattini elettrici. Domani, quando c'è mezza Italia in sospeso su temi fondamentali come la scuola, la salute, il lavoro, domani avete confermato il click day per le bici e i monopattini elettrici. Se invece di occuparvi di monopattini vi foste occupati di autobus e metropolitane avreste fatto un servizio agli italiani. Il click day. Domani pomeriggio la Camera si occupa della legge sull'omotransfobia e dell'insegnamento gender nelle scuole, altro tema di fondamentale importanza per questo Paese, per le nostre scuole, per i nostri figli e per i nostri insegnanti. Oggi in tante scuole italiane sono arrivati i banchi con le rotelle. Era una notizia attesa da tempo. Peccato che voi stiate per chiudere quelle scuole con i banchi e con le rotelle è la differenza. Lei parlava di Francia, Germania e Regno Unito. Francia, Germania e Regno Unito non navigano a vista giorno per giorno e le scuole le tengono aperte perché tengono la salute dei nostri figli, alla crescita morale, culturale, sociale e affettiva dei nostri figli. Un'oretta fa, signor Presidente del Consiglio, e non vedo il Ministro dell'Interno fra i banchi del Governo, sono sbarcati altri 300 immigrati a Lampedusa. Una riflessione sorge spontanea a tutti gli italiani di destra, di sinistra, politici, apolitici, milanisti, interisti e juventini. Ma un Governo che si appresta a chiudere scuole, case, uffici e negozi non potrebbe chiudere i porti allo sbarco di migliaia di clandestini. È difficile da ipotizzare. Non è difficile, l'abbiamo fatto. Lei l'ha fatto. Lei l'ha fatto, anche se poi a processo mandate me. Anche lei l'ha fatto. E quelli che nei banchi della maggioranza ululano e sorridono pensino al dramma che ha vissuto la Francia pochi giorni fa, prima di ululare e sorridere. Fisco e tasse. A novembre sono confermate le scadenze fiscali. Io mi domando se vivete sul pianeta Terra o se vivete sul pianeta Marte. Avete rinviato di due mesi, dopo pressing della Lega e del centrodestra, nove milioni di cartelli esattoriali di Equitalia fino al 31 dicembre. E io vi domando se voi veramente pensate che il primo gennaio gli italiani avranno milioni di euro per pagare nove milioni di cartelli esattoriali. Ma IVA, IMSS e altri contributi non aspettano. Pensiamo a categorie dimenticate come gli agenti di commercio, che si erano leggermente ripresi quest'estate, dopo mesi di dramma e di fatica, giù altre mazzate. Signor Presidente del Consiglio, se vuole collaborazione, ascolti il Paese normale, date certezze a questi lavoratori, alle partite IVA, agli autonomi, agli artigiani e toglietegli l'incubo del pagamento dei contributi e delle cartelle esattoriali. Ma fatelo adesso. I colleghi l'hanno già anticipato. Cure a domicilio. Perché il problema non sono le terapie intensive, ma è l'affollamento degli ospedali, perché c'è la corsa in ospedale anche di coloro che potrebbero essere curati a casa. Tamponi a domicilio. Lei ha scientificato il commissario Arcuri che si è svegliato dopo mesi di torpore e io ringrazio, a prescindere dal colore politico, i governatori che hanno aumentato le terapie intensive nelle loro regioni, nonostante il governo abbia dormito, nonostante il commissario abbia dormito. Altro che grazie al commissario. una richiesta che arriva da tutte le categorie produttive. Un Paese serio punisce i pochi furbi e non tutto il mucchio. Se fra i milioni di ristoratori, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, il 99% ha rispettato le norme che voi avete imposto, spendendo dei soldi per i plexi, il distanziamento, per la sanificazione, per le mascherine, voi non potete chiudere tutti per colpa di un furbo. Andate a sanzionare quel furbo, ma lasciate lavorare chi ha speso dei soldi per sistemare le proprie attività. Indennizzi. Io ricordo a chi cita l'Europa che la Germania alle aziende sotto i 50 dipendenti e ai lavoratori autonomi ristora fino all'80% del proprio fatturato e la Gran Bretagna fino ai 3.000 pound l'80% del proprio fatturato. Qua stiamo navigando a vista con elemosine. I soldi che dati ad alcuni imprenditori e ad alcuni taxisti non servono neanche per pagare le bollette della luce di un mese. Io non so se veramente qualcuno ha presente i sacrifici che stanno facendo gli imprenditori e i lavoratori di questo Paese. Aumentare la frequenza dei trasporti pubblici, l'hanno detta tutta, però ripeto, per qualcuno è più importante andare in giro col monopattino elettrico. Un appello ai colleghi, ai giornalisti che ci stanno seguendo. Informare sì, terrorizzare no. E lo contagiato non vuol dire malato. Contagiato non vuol dire appestato. Non facciamo un buon servizio. Poi ogni tanto ricordarsi nel nome della collaborazione anche quello che è venuto dai banchi del governo del PD e dei Cinque Stelle nei mesi passati. Oggi purtroppo, e dico purtroppo, stanno riaprendo gli ospedali. In alcune realtà l'ospedale in Fiera Bergamo e l'ospedale in Fiera Milano su cui voi avete riso e speculato in passato e per cui dovreste chiedere scusa a qualcuno. Perché erano soldi sbattuti via. Altro che soldi sbattuti via. Ultima riflessione sui nostri genitori, sui nostri nonni e sugli anziani. Ovviamente i nostri genitori e i nostri nonni sono un patrimonio, ma non di passato, di presente e di futuro, di lavoro, di saggezza, di esperienza, di accudimento ed educazione dei nostri figli. E io vi inviterei, colleghi del governo, a ricordarvi degli anziani e dei nonni, non solo quando vi serve politicamente, ma anche quando dovete occuparvi di pensioni e di diritti dei... dei portatori di handicap e dei più fragili. E chiudo con una proposta. Chiudo con una proposta e, come hanno detto i colleghi del centro-destra, le proposte non si fanno in una commissione inventata di notte dal duo Conte-Casalino o inventata a tavolino. La commissione dove collaborare, la task force dove collaborare e l'hanno deciso i nostri padri costituenti, si chiama Parlamento della Repubblica. Le cabine di regia, ma basta, ma basta che non partoriscono un accidente. Proposta. Riserviamo, e su questo mi auguro che qualcuno ragioni, riserviamo agli over 70, che sono un patrimonio fondamentale di questo Paese, non chiuderli in casa, non ignorarli o ghettizzarli, ma... ma... che dal PD urlino come ossessi o chiedo troppo, nel nome della collaborazione. se questa è la collaborazione, prima della collaborazione viene l'educazione per quello che mi riguarda, e valutate voi. Comunque sto cercando di finire lasciando sul tavolo una proposta. Non chiudere in casa nessuno. Chiudere in casa 60 milioni di italiani e la sconfitta, non del Governo, mi interessa poco delle sorti del Governo, ma di questo Paese. Riserviamo degli orari durante il giorno per la spesa, per i tamponi, per la sanità, per l'utilizzo dei trasporti pubblici alle donne e agli uomini sopra i 70 anni che hanno fatto grande questo Paese. Aiutiamo loro a vivere in sicurezza l'Italia senza chiudere in casa 60 milioni di italiani. Altrimenti ne avrete la responsabilità voi. Grazie e vi aspettiamo in Parlamento, non una volta all'anno, ma tutte le settimane. Anche lunedì, senatore Marcucci. Perché siamo pagati per lavorare anche lunedì. E non è una roba eccezionale.